oh non puoi stare tranquillo a pompare benzina tutto il giorno che poi accendi un attimino il cellulare dici cazzo notizia bomba su ares vicinissimo al milan o raga prendetela con le pinze una notizia che è uscita adesso adesso se andate a vederla la trovate vicinissimo al milan 4 milioni più qualche bonus qua e là c'è anche il monza in concorrenza ma al monza gli pisciamo sulla testa se veramente lo vogliamo però ma cavolo ero lì sereno e mi arriva questa cosa qua volete sapere il mio parere 35 anni girù 42 ebraimovic allora salvo che si ritira ibra suarez 35 sono stati campioni girù comunque l'anno scorso ha fatto il suo è andato bene benzemà alla fine 34 anni l'anno scorso ha buttato giù le porte vi dirò da un lato sono contentissimo perché comunque suarez è sempre suarez in italia può dire la sua dall'altro lato il suo carattere un po' una testa di cazzo e l'età però va bene origi e giovane suarez e girù possono insegnarli questa è la notizia della sera quindi stasera andate a letto col pensiero di suarez al milan vedremo se sarà vero se filmeranno il contratto se sarà questo il nuovo colpo opportunità di paolo maldini se siete contenti scrivetemelo sotto nei commenti se siete incazzati scrivetemelo sotto comunque nei commenti sempre forza milan lasciate un pollice in su al benzinero di sostegno raga un pollice in su non si nega nessuno sempre forza milan grazie grazie